30 chili di eroina sono stati scoperti al porto di Bari dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane durante un controllo su un'auto appena sbarcata dalla Grecia. A bordo del mezzo una renome gang coupé, un cittadino albanese di 21 anni e una cittadina greca appena maggiorenne. Il controllo approfondito è stato deciso in seguito alle strane motivazioni fornite dal guidatore circa lo scopo del suo viaggio in Puglia. Nel bagagliaio dell'auto c'erano alcuni tavolini pieghevoli in legno un po' troppo pesanti per il loro spessore. La perquisizione ha così permesso di scoprire, nascosti tra le tavole di legno, ben 56 panetti di eroina di due diversi tipi, chiara e scura. I due giovanissimi corrieri sono stati arrestati e condotti nel carcere di Trani con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti mentre il carico di droga è stato sequestrato assieme all'auto. sono in corso accertamenti per individuare provenienza e destinazione dell'eroina.